La polizia di Foggia ha arrestato il responsabile dell'aggressione al vicepreside della scuola Murialdo di Foggia, avvenuta sabato scorso all'interno dell'istituto davanti a studenti e personale scolastico. Si tratta di un 38enne già noto alle forze dell'ordine per il quale è stata disposta la misura dei domiciliari. L'uomo che adesso risponde dei reati di violenza, lesioni gravi e minaccia pubblico ufficiale si era recato alla scuola Murialdo e senza dare alcuna spiegazione, aveva colpito con calci e pugni il vicepreside, la cui sola colpa era di aver rimproverato il figlio del 38enne durante lo svolgimento delle attività scolastiche. Per i medici avrebbe riportato lesioni al volto e all'addome guaribili in 30 giorni. Una ricostruzione dei fatti ammessa dallo stesso aggressore che si è successivamente scusato tramite il suo avvocato per il proprio comportamento. Nei suoi confronti il questure di Foggia, Mario della Cioppa, ha proposto al Tribunale di Bari l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in considerazione della pericolosità sociale dell'uomo. È già tornato a scuola, invece, frequenta regolarmente le lezioni, il ragazzo trovato si sua malgrado al centro dell'incresciosa vicenda. Lo ha reso noto la preside dell'istituto che ha anche assicurato che il giovane non subirà ripercussioni per quanto avvenuto.